Grazie a tutti. L'apertura di un centro servizi, i bagni e la dotazione sanitaria, dichiarazioni da parte del comandante Prigigallo che esprime soddisfazione. Sono passati quattro anni dall'inizio dei lavori per la ristrutturazione della palestra ex Cunetta, oggi intitolata Luca Manchia, ma ancora non è stata resa fruibile. Ultimo ostacolo è il collaudo dei vigili del fuoco. Ne abbiamo parlato con Fabio Fois della lista TED. Successo di atleti e pubblico per i campionati regionali assoluti di stacchi da terra ed esistenza su panca organizzati dalla New Power insieme a Cristian Mulas che ha anche presentato l'evento sportivo. Sabato altro appuntamento. Per il basket ai nostri microfoni Giulia Forni, guardia della Mercedes. Match sabato al Palacorbia con Cervia. Un saluto a tutti voi e ben ritrovati con la quotidiana informazione su Catalan TV. Come avete sentito dal nostro sommario sono state riconsegnate dal comune di Alghero, l'autorità marittima, le aree e opere realizzate dall'amministrazione nel porto di Alghero. Diversi i servizi di cui adesso è dotato lo scalo, tra cui un locale centro servizi, l'impianto antincendio fisso e i servizi igienici. Commento positivo del comandante della guardia costiera di Alghero, Giuseppe Prigigallo. Riconsegna da parte del comune di Alghero l'autorità marittima delle aree e opere che sono state realizzate nell'ambito dei lavori di completamento del porto turistico. Il passaggio è venuto lo scorso 20 febbraio, quando la capitaneria di Porto Torres, il comune di Alghero e la regione Sardegna, servizio, demanio e patrimonio di Sassari, si sono incontrati negli uffici di Via Eleonora d'Arborea. Le opere realizzate dal comune di Alghero ritornano dunque sotto l'autorità marittima, mentre la loro gestione spetta alla regione. L'esigenza e l'urgenza di questo passaggio, voluto dall'ufficio circondariale marittimo algherese, è quella di riuscire ad attivare, con l'arrivo della stagione estiva, gli impianti realizzati e rendere il porto turistico sempre più funzionale. Intanto il centro servizi, realizzato nel Molo Lofrasso, nuovi impianti di illuminazione e fognari, importante anche la dotazione del porto di un impianto antincendio fisso. Lo scalo algherese è uno dei pochi in Sardegna a possederlo. Nell'ambito di questi lavori, cominciati nel 2005 e terminati nel 2010, i nuovi servizi igienici, idonei anche per le persone diversamente abili. Inoltre, il porto sarà anche dotato di un ufficio di sanità marittima. In un locale del centro servizi, infatti, sarà destinato in temporanea consegne in uso governativo alla Croce Rossa italiana, reparto nazionale di sanità pubblica, in accordo con il Ministero della Salute. Questo costituirà, per lo scalo algherese, un valore aggiunto. E restando in tema, la consegna delle nuove opere realizzate dall'amministrazione comunale costituisce il primo passo di un'attività da parte della Regione Sardegna, volta a valorizzare la portualità algherese, ha detto il comandante del porto di Alghero, Giuseppe Prigigallo. A breve, infatti, si procederà anche alla riconsegna dell'autorità marittima del nuovo banchinamento di sopraflutto, spiega, e l'amministrazione comunale delegata procederà alla gara d'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria dell'ambito portuale per i quali sono già stati stanziati 500 mila euro. L'apertura del centro servizi, prosegue ancora a Prigigallo, costituirà un momento importante per l'organizzazione del porto e l'affidamento ai privati dei servizi igienici risolverà definitivamente la nota problematica dell'assenza di bagni nello scalo. Importante, inoltre, la dotazione della stazione sanitaria che eviterà l'utenza portuale di recarsi a Porto Torres. E sono passati quattro anni dall'inizio dei lavori per la ristrutturazione della palestra ex cunetta, oggi intitolata a Luca Manchia, ma ancora non è stata resa fruibile. Ultimo ostacolo, il collaudo dei vigili del fuoco. Ne abbiamo parlato con Fabio Fois, della lista TED, che chiede un intervento per superare gli ultimi intoppi. Fabio Fois, della lista TED, Alghiero e gli alghiresi attendono già da tempo una nuova palestra, in particolare quella dedicata a Luca Manchia. Sì, siamo già praticamente quasi cinque anni che attendiamo una palestra, sia a livello sportivo ma soprattutto una palestra da mettere a disposizione della collettività. La palestra è intitolata, carissimo amico purtroppo scomparso, Luca, con il quale abbiamo condiviso tantissimi momenti positivi e negativi all'interno di quella struttura. Oggi, visto che la palestra è conclusa dal mese di novembre, noi come lista ci stiamo preoccupando perché la struttura venga messa a disposizione della collettività, anche perché arrivando al termine delle stagioni agonistiche e con organizzazioni di diverse manifestazioni, penso che sia opportuno che una struttura del genere sia a disposizione della nostra città. Voi avete raccolto sicuramente le istanze delle società sportive ma anche in generale proprio della città. Quella potrà essere utilizzata anche per altri scopi oltre quello sportivo, secondo lei? Io credo che sia una struttura per come è fatta, come viene utilizzata anche a Sassari, così il Palassegni, dove si fanno delle manifestazioni. Anche il tipo di palestra deve essere a disposizione non solo delle società sportive ma anche di altre attività, tipo danza, tipo musica. Visto che comunque abbiamo un teatro che è una bomboniera, però comunque va sempre usato con parsimonia. Ma a prescindere da questo ci sono anche delle scolaresche che non hanno la possibilità di fare attività sportiva all'interno delle strutture e ormai le condizioni meteorologiche molto piovose non ci permettono di poter lavorare sempre all'aperto. Ma a prescindere da questo comunque quattro anni una struttura che doveva essere terminata in breve tempo e soprattutto è una struttura che doveva essere inaugurata quando ancora io ero presidente del Panatron, quindi prima del 31 dicembre siamo ancora così. La visita di martedì del capo dello Stato a Giorgio Napolitano ad Alghero per l'apertura del Museo Mannu ha suggellato il lavoro di questi anni rendendo palese l'impegno profuso dall'amministrazione Tedde. In questo modo commenta l'evento il coordinatore cittadino del PDL, Mario Conoci. Se avessimo dovuto immaginare un modo per suggellare l'attività svolta in questi anni mai avremmo potuto pensare che questo sarebbe avvenuto con un riconoscimento più alto. Queste le parole del coordinatore cittadino del PDL, Mario Conoci che evidenzia come la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ad Alghero in occasione dell'apertura del Museo dedicato a Giuseppe Manno nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia rappresenta un riconoscimento inaspettato ma più che meritato alla nostra città a ciò che essa rappresentato anche nella fase della nascita della nostra patria ma soprattutto al grande lavoro di recupero, valorizzazione e modernizzazione svolto in questi anni. Il Museo Manno può ben rappresentare tutto questo. È stato acquisito dai privati al patrimonio pubblico uno spazio del centro storico abbandonato e in stato di degradio da decenni. Una parte importante del tessuto urbano storico a due passi dalla cattedrale da piazza civica dai bastioni è stata ricostruita così come si è realizzato con efficienza e competenza in tempi straordinariamente brevi il museo dedicato alla figura di Giuseppe Manno laddove sorgeva la sua casa. Infine è stato completato il sistema dei quattro musei della città che rappresenta un presidio culturale che consente di divulgare la storia e la ricchezza culturale di Alghero in modo moderno ed integrato con la nostra economia turistica. Tutto questo, commenta Conuci, non avviene per caso ma è il frutto della programmazione e della costanza posta nella trasformazione in opere e attività concrete di quanto programmato. Se ieri eravamo alla ricerca di un elemento simbolico che potesse rappresentare tutto questo che fosse in grado di ricevere un riconoscimento oggettivo rispetto ai progressi fatti da Alghero in questi anni la visita del Presidente della Repubblica al Museo Manno è di sicuro quel simbolo che stavamo cercando. Maria Grazia Salaris, già assessore del Comune di Alghero col centro-destra chiarisce la sua posizione rispetto a un'eventuale candidatura a sindaco Non ho ancora deciso se candidarmi o meno alla carica di sindaco Sto riflettendo e valutando la percorribilità di un progetto politico largamente condiviso di rilancio e valorizzazione del ruolo della nostra città nel contesto di un quadro più complessivo di sviluppo della Sardegna soprattutto nel settore turistico, culturale e sociale Ringrazio l'API per la condivisione quanti hanno manifestato la volontà di sostenere la mia candidatura continua la Salaris non solo per il significato che avrebbe la mia presenza cioè la presenza di una donna scusate alla guida dell'amministrazione comunale ma anche per la conoscenza profonda che ho della città e dei suoi problemi Ritengo comunque che occorra uscire dagli schemi ormai superati di una politica di schieramenti contrapposti fini a se stessi ed intraprendere un cammino innovativo di alleanze di scelte condivise per il bene dei nostri concittadini che vogliono risposte concrete ai loro problemi quotidiani di una cosa sono certa, anzi certissima se decidessi di scendere in campo lo farei con impegno e convinzione con l'unico obiettivo di tutelare gli interessi della città conclude la Salaris e cambiamo argomento anche quest'anno Alghero è stato tra i comuni virtuosi che ha aderito a M'Illumino di Meno la campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar scuole e cittadine coinvolte e chiusura all'Istituto Musicale Verdi è stato un successo di partecipazione anche quest'anno la giornata nazionale del risparmio energetico M'Illumino di Meno promossa dalla trasmissione radiofonica di Radio 2 Caterpillar Alghero e il suo comune che ormai da anni vi aderiscono nella giornata del 17 febbraio hanno dato vita al percorso illuminato coinvolte tutte le scuole cittadine che hanno realizzato attività di educazione ambientale volte al risparmio energetico poi la giornata è proseguita all'Istituto Artistico Musicale Verdi con l'iniziativa Spegni la Luce Accendi la Musica durante la serata aperta dai saluti della Presidente Silvana Pinna c'è stata la chiamata in diretta dei due conduttori di Caterpillar di Rai Radio 2 Massimo Cirri e Antonio Di Bella che hanno intervistato la referente del comune di Agenda 21 locale la dottoressa Nadia De Santis poi il coro delle voci bianche dell'Istituto ha eseguito l'Inno di M'Illumino di Meno diretto dalla maestra Lucia Priami sulle musiche curate dagli studenti del maestro Paolo Zuddas i due conduttori hanno elogiato le strepitose iniziative del comune di Alghero che da anni vi aderisce tra cui anche le attività che si faranno con i detenuti della casa circondariale dopo il momento musicale gli allievi dell'Istituto con le lampade hanno accompagnato gli ospiti in un percorso illuminato davvero originale opera del Flower Interior Designer Tonino Serra in collaborazione con Enrico Fauro l'iniziativa rientra nel progetto cofinanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell'Ambiente e Servizio Stavi dal titolo Proseguimento dell'Agenda 21 locale di Alghero attraverso le campagne di sensibilizzazione, informazione e di educazione nell'azione quotidiana sostenibile alla serata erano presenti i maggiori rappresentanti di Agenda 21 locale tra cui l'Università della Terza Età la Capitaneria di Porto e i rappresentanti delle scuole cittadine delle associazioni Ed ora diamo la linea alla regia per la pubblicità tra poco